Secondo il conserto bollettino diramato dall'unità di crisi sono 875 nuovi contagi in regione Campania su 25.463 test effettuati. L'indice è giunto al 3,4%. Un decesso inoltre nelle ultime 48 ore, mentre un secondo è stato rilevato in precedenza ma registrato ieri. Anche nel Serenitano il coronavirus è in aumento, infatti in provincia si sono registrati 119 nuovi positivi. In totale sono 841 nuovi casi negli ultimi sette giorni, in pratica sono 120 ogni 24 ore. Ancora attenzione per le scuole, un insegnante in servizio presso la scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi Rubino Nicodemi di Fisciano e Don Alfonso De Caro di Lancusi è risultata positiva al Covid-19, da oggi didattica a distanza per alcune classi. A Battipaglia, presso un bar del centro, è stata riscontrata la presenza di un numero consistente di giovani intenti ad ascoltare musica ad alto volume e a consumare bevande alcoliche oltre all'orario consentito. Il titolare è stato sanzionato oltre alla chiusura provvisore dell'attività per 5 giorni. Si registrano anche due recessi, purtroppo non ce l'ha fatta Antonietta Delisanti, la giovane mamma, 26 anni, di Montano Antilia, risultata contagiata ad agosto dal Covid-19. Fu costretta a partorire prematuramente la figlia, morta pochi giorni dopo la nascita. A darne notizia il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, la giovane era ricoverata da tre mesi al nuovo policlinico di Napoli. Il secondo recesso è stato evidenziato nella comunità del Ballo di Diano per un 59enne di Sassano. L'agricoltore era ricoverato da diversi giorni al Covid Hospital di Agropoli. Non era vaccinato e soffriva già di patologie polmonari. Buone notizie invece dall'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, che ha destinato 150.000 euro del fondo assegnato dal Governo per l'emergenza Covid, al sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza e di quelli in stato di bisogno. Infine c'è anche Salerno, tra le 16 province coinvolte nelle prequisizioni, 17 attivisti Novac e No Green Pass da parte della Polizia. Si tratta di radicalisti affiliati al canale Telegram Basta Dittatura.